Paola, questa conferenza stampa del club velico per parlare non solo di sport? Sì, prima di tutto di sport perché ovviamente l'evento principale è la regata che quest'anno ha raggiunto numeri da record. 322 partecipanti provenienti da otto nazioni, quindi la biperbanca Carnival Race più partecipata della storia. Però anche tantissimi eventi, abbiamo innanzitutto la sfilata di Carnevale che apre la regata e quindi apre l'evento e poi abbiamo un convegno molto importante con l'Università della Magna Grecia sui giovani perché il tema della regata è Alice nel Paese delle Meraviglie, legata al tema del disagio giovanile. Quindi crescere è un'avventura meravigliosa, conoscere i pericoli aiuta ad evitarli e questo è il tema del convegno che faremo sabato mattina al liceo scientifico ma tanti altri eventi anche divertenti, il Carnevale organizzato insieme al Comune e alla Proloco domenica 4 è stata la prima giornata, la Carnival Parade di venerdì sarà la seconda e domenica 11 sarà la terza. La Carnival Parade sarà una sfilata grandiosa, sarà molto importante, imponente, partirà da Via Veneto e arriverà a Via Roma dove ci sarà una bellissima festa organizzata sempre da Comune e Proloco e dall'Associazione dei Commercianti di Via Roma che stanno organizzando cose fantastiche, tra cui ci sarà alla fine anche il concerto degli Ellos. Il carro sarà preparato dal liceo artistico Pertini Sant'Oni, quindi una partecipazione di scuole, associazioni è un evento molto importante che farà ovviamente da cornice all'evento principale. La regata che sarà sicuramente strepitosa con 322 partecipanti, quindi un evento molto grosso anche a livello velico ma siamo preparati per accoglierli a mare ma anche a terra. Insomma, questo evento è un evento che da qualche anno si ripete e che crea anche grande attenzione per la nostra terra. Sì, sì, è il nono anno, quindi è la non edizione, è diventata una delle regate optimist più partecipate proprio perché gli atleti, le squadre, le famiglie, perché sono bambini dai 7 ai 12 anni quindi sono accompagnati anche dalle famiglie, vengono a Crotone molto volentieri perché sono accolti bene, perché è tutto organizzato molto bene e quindi l'anno scorso ci hanno dato enormi soddisfazioni dicendo che era uno dei club più organizzati d'Italia una delle regate meglio riuscite, quindi diciamo tanto il nostro enorme lavoro è stato ripagato. Un obiettivo raggiunto Un obiettivo raggiunto ma ovviamente noi non ci fermiamo qui siamo sempre in crescita, l'anno prossimo sarà la decima edizione quindi siamo determinati a battere di nuovo il nostro record e a raggiungere ancora più partecipanti.